Stadio Friuli di Udine, seconda partita di campionato udinese Parma, un saluto come sempre da Luca Bertelli Alberto Di Chiara Andiamo subito a darvi la formazione del Parma, c'è una novità rispetto alla squadra che ha giocato contro il Chievo settimana scorsa pareggiando 0-0 C'è in campo dal primo minuto Wolverine, Murari, tutto pronto di Natale Muriel sul pallone udinese disposta come al solito con il classico 3-5-2 Vedremo due squadre a specchio, partito l'incontro proprio in questo momento Udinese va in vantaggio Si ha infilato 1-0, un rimpallo favorevole l'udinese sul 3-4 Riparte l'udinese in contropiere, grande paura per Muriel che ha lo scatto del miglior centrometrista, finisce ancora il pallo Muriel Alta alla sinistra di Mirante Occhio ora cos'entro, Murri destra, attraversa le Parma, incredibile Al 22esimo che lava forse la toccata, forse la toccata dalla traversa Occhio però perché Badu va a mille all'ora, udinese-Gantinara, pericolosamente, palla a Chiesce Non di molto alla destra stavolta di Mirante, ancora udinese pericolosa Benì molto bene stavolta nel piegamento difensivo, proprio Benì perde un rimpallo Allora ancora l'udinese, ancora l'udinese e il palo Clamoroso palo da parte di Natale Clamoroso palo di Natale al 28esimo Rosi va sulla destra E poi credo che Felipe sia appunto per un discorso di credo di infortunio Al di là del discorso tecnico Si è uscito soprattutto per quello Vediamo Amauri Amauri si gira, tira alto, peccato Partito bene però il Parma con questa fiammata di Amauri Ricordiamo quindi i cambi dentro Rosi Contropiede Muriel, Muriel sul destro Mirante Grande riflesso di Antonio Mirante, l'uomo volante La metta in corner Muriel sassata di destro Se l'è portata con 1-2 sulle piede forte Mirante gli ha detto di nuovo Per l'udinese sale anche Ertò Difensore francese abile nel gioco ero Qualcuno deve prendere Ertò E' gol Proprio lui, proprio lui Ertò, l'avevo detto Ertò è partito indisturbato dalla difesa E' arrivato, purtroppo nessuno l'ha preso Ed Ertò si trafigge di nuovo 2-0 per l'udinese Connor è battuto Colpo di testa Mirante, miracolo Miracolo di Mirante sulla linea di porta Altro colpo di testa nell'area piccola Stiamo un po' in difficoltà sulle palle alte Rosi, Rosi, Rosi entra in area Rosi, Rosi, zona cross E' buono, secondo pallo, Castano di testa Go, 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 Castano 2-1 Siamo ancora lì, abbiamo detto Dobbiamo fare gol in Parmi 5 minuti L'abbiamo fatto, primo gol Di Castano con la maglia del Parma 2-1, Alberto In che modo l'udinese Arriva in zona tiro con Lazzari Calcio di rigore Calcio di rigore per l'udinese Contatto, a mio parere, molto dubbio Mendez si dispera E' convinto di aver preso il pallone Trigore per l'udinese Segnato Udinese 3-1 E qui, caro Alberto Come si suol dire nel tennis Udinese batte Parma 3-1 La rete all'undicesimo Badu A 72esimo Ertol L'83esimo Cassano L'89esimo